Wired Tales, stregonerie sonore, quattro serate dedicate alla musica elettronica e sperimentale nella cornice della Rocca Branca Leone dal 27 giugno al 4 luglio. Un piccolo festival di musica elettronica all'interno però del grande e importante appuntamento di Ravenna Festival di quest'anno. Si potrebbe esordire dicendo piccolo e bello ma pensiamo che un festival, una rassegna in qualche modo monografica come questa su uno degli aspetti sicuramente più interessanti e curiosi della scena musicale mondiale che negli ultimi anni forse non ha presentato poi cose straordinarie. Ecco questa scena elettronica che è soprattutto europea ma non solo con qualche propagine americana può riservare grandi sorprese. Si innesta bene in una programmazione come quella di Ravenna Festival che comunque ha sempre dedicato spazi, nicchie magari non sempre così visibili ma proprio grazie alla collaborazione con Bronson che ha saputo in pochi anni imporsi anche a livello nazionale con una programmazione di altissimo livello crediamo anche in questa joint venture come si dice abbiamo tutti da guadagnarci. Quattro date, tutte imperdibili, ci presenti in sintesi un pochino questi artisti? Sì, ci tengo solo ad aprire dicendo che effettivamente è la seconda edizione di questa rassegna e l'idea era quella appunto di essere coerenti con quella dell'anno scorso e allo stesso tempo però spostare il confine un po' oltre. Quindi presentiamo quattro artisti di assoluto, quattro eventi di livello internazionale assoluto dedicati sia all'elettronica contemporanea ma non solo. Per quello che riguarda appunto la sezione elettronica contemporanea presentiamo il progetto celebratissimo di Alvanotto con Blixa Bargeld una collaborazione effettivamente molto importante tra due degli artisti contemporanei di maggior rilievo a livello internazionale. Alvanotto è un manipolatore elettronico che rientra tra il minimalismo e la musica ambient mentre Blixa Bargeld è il frontman degli instrumenti di Noi Bauten è stato il chitarrista di Nick Cave ed è veramente un grandissimo personaggio una grandissima personalità e lavora tantissimo sulla voce attraverso loop, stratificazioni e quindi si tratta di un progetto molto originale e assolutamente da vedere. Poi avremo Moritz von Oswald che invece è uno dei padri del minimalismo a riletto la musica tecno, la musica house integrandola con la classica e con il jazz e quindi quello che vedremo è alla fine un concerto in trio che ha tutte le caratteristiche del trio jazz ma anziché suonare strumenti gli strumenti tradizionali avremo a che fare con tre manipolatori elettronici. Poi una delle idee del festival era quella appunto di ampliare il raggio d'azione mettendo un piede in quello che potrebbe essere considerata la scena in default che abbiamo diretto lo sguardo a nord e abbiamo invitato questo nuovo Infant Prodige che è questo pianista islandese giovanissimo a 25 anni che presenterà a Ravenna il suo nuovo album si chiama Olafur Arnolds e si presenterà al piano con un percussionista, quattro archi e un videomaker. Concludo parlando brevissimamente di questa coproduzione che potrebbe essere la puntata zero di un progetto a più ampio raggio tra il video artista e il regista Ravennate Yuri Ancarani e il chitarrista dei Sun Stephen O'Malley. Quindi un regista Ravennate e un chitarrista new yorkese per interpretare la bora sia da un punto di vista visivo che da un punto di vista sonoro. Di fatto è un documentario nelle cui immagini si cerca di riprendere il vento e con la colonna sonora dargli anche un suono.